Obiettivamente parlando è diventato anche un pochino pesante ragionare a medio-lungo termine, è quasi impossibile perché tu ti ritrovi in questo momento in questa posizione dodicesimo, tredicesimo dove ci ritroviamo e non sappiamo tra un mese, un mese e mezzo se sprofonderemo definitivamente oppure se ritorneremo su è anche abbastanza complicato affrontare le partite, vivere di stimoli in questo modo non è semplice l'hai stravolto, anche se li ridanno, comunque l'hai stravolto, voglio confortare i tifosi juventini perché vogliamo vedere poi come va a finire, quindi a quel punto noi ci affidiamo a dei giudici giudici che devono essere con loro, loro sono l'accusa, loro hanno portato avanti l'inchiesta esatto, loro possono dire anche quello che vogliono, di certo è stata un'esternazione sballata, fuori luogo che poteva tranquillamente evitare, che non può far altro che alimentare più dubbi hanno scambiato questo per un giochino, non stiamo giocando a subuteo mi sembra di sentire le intercettazioni al contrario, i protagonisti ci sono anche loro perché i termini che utilizzano sono gli stessi, parolacce, linguaggio scurrile ma dove siamo finiti qua? è quello il problema io voglio sperare sempre che la giustizia sportiva funzioni in qualche modo perché se io devo pensare che la giustizia non funziona, allora faccio prima ad emigrare faccio prima ad andarmene, ad andare a vivere in un altro posto per cui l'istinto mi porta sempre a pensare che comunque si risolverà in maniera corretta voi se abbiamo avuto ragione, voi se abbiamo sbagliato quindi chi deve essere punito deve essere punito, chi invece non ha commesso reato va avanti però pensate che ci sia un accadimento nei vostri confronti ma noi criticavamo anche la dirigenza nel momento in cui vedevamo che a livello societario le cose non andavano bene adesso è venuta fuori questa storia ma prima lo vedevamo che la Juve spendeva tanto acquisti sbagliati pagava troppo anche alcuni calciatori ad esempio uno che mi ricordo è Arthur del Barcellona una roba impressionante quindi c'era qualcosa che non andava quindi c'è anche qualcosa effettivamente di fondato da qui però poi a gestirla in maniera corretta, non corretta, ne parliamo sì